Allora, quell'1,16 di RT nazionale è una media, perché lo vediamo in quest'altro cartello. Vedete com'è la situazione poi reale in tutte quelle regioni che scavallano quella media e arrivano addirittura la Campania 1,65, il Friuli Venezia Giulia e la Val d'Aosta 1,42, la Calabria 1,36, Piemonte 1,33, la Puglia lo supera quel dato con l'1,24. Benvenuto a Nino Cartabellotta, che è il presidente della Fondazione Gimbe. Nel vostro ultimo rapporto voi dite che praticamente, presidente, in un mese si sono raddoppiati i ricoveri in terapia intensiva. Adesso siamo al 36%, il limite è fissato come massimo il 30% ed è anche quella purtroppo una media. Guardi Gerardo, quello che si è verificato nel corso delle ultime quattro settimane, da quando è partita ufficialmente quella che chiamiamo terza ondata, che come sappiamo si è innestata durante la fase discendente della seconda, è che il numero dei casi ha ricominciato a salire da un alto piano molto elevato, perché eravamo a poco più di 380 mila casi. E come sappiamo più aumentano questi casi, i casi attualmente positivi, a ieri sera erano 556 mila, aumentano diciamo proporzionalmente sia il numero di pazienti ricoverati sia quelli in terapia intensiva. I primi in un mese, diciamo in quattro settimane, sono cresciuti di circa 10 mila, quindi 10 mila posti letto in più occupati e quelli in terapia intensiva di 1.300. Quindi è una sorta di trasposizione proporzionale tra casi ospedalizzate e terapie intensive. Come lei diceva, il vero problema è quello del sovraccarico, perché di fatto quando si parte da un alto piano il sovraccarico si raggiunge molto più rapidamente. Quella media del 37% dei posti letto occupati in terapia intensiva, che di fatto sta al di sopra del 30%, che è la media nazionale standard, è un po' diciamo ingannevole, perché ci sono poche regioni dove i posti letto occupati in terapia intensiva stanno tra il 10 e il 20%, sono solo 5, ma ci sono 10 regioni dove praticamente questo percento va sopra il 30%, addirittura sopra il 40%, ci sono addirittura regioni che superano il 50%, l'Emilia Romagna, il Piemonte, l'Umbria, la Lombardia, le Marche, la provincia di Trento. Quindi è una media che risente di estremi molto diversi, proprio a testimonianza del fatto che il virus sta circolando in maniera molto diversa da regione a regione e ovviamente l'impatto sulle strutture ospedaliere è diverso da regione a regione, come lei sottolineava, ricordiamoci che gli ospedali non servono solo a curare malati Covid, ma quanto più si espande il malato Covid nell'ospedale, tanto più cannibalizza posti letto destinate ad altre prestazioni che poi finiscono per essere rimandate. Dette fasce deboli. Allora, secondo Matteo Villa, che è un ricercatore dell'ISPI, noi, ve lo facciamo vedere in quest'altro cartello che lui ha diffuso sul web, sul suo profilo Twitter proprio oggi, lui dice che se noi viceversa avessimo fatto come Israele, per esempio, che ha vaccinato solo ed esclusivamente per età, quindi partendo dai più anziani a scendere giù, noi avremmo avuto ad oggi, dice Villa, il 54% in meno di letalità, cioè avremmo metà dei morti in meno, soprattutto nelle fasce più a rischio a quelle anziani, mentre invece ad oggi Nino Cartabellotta dice, l'ISPI ci siamo fermati al 21%, hanno ragione? Sostanzialmente il vero problema è che noi abbiamo cominciato la vaccinazione degli ultraottantenni a partire dalla metà di febbraio, quindi praticamente poco più di un mese. Al dato aggiornato ieri, noi abbiamo sostanzialmente vaccinato con due dosi, il 14,7% degli ultraottantenni, che ricordo in Italia sono poco più di 4 milioni e 400 mila, e il 28,2% hanno ricevuto soltanto una dose, con differenze regionali molto importanti, che peraltro anche ieri il Presidente Draghi ha documentato, ha riportato nella conferenza stampa, parlando di regioni che vanno troppo in ordine sparso, perché la copertura degli over 80 con due dosi, ad esempio, va dal 38% della provincia di Bolzano al 2,8% della Sardegna, quindi siamo praticamente a un rapporto che va più di dieci volte. È evidente che tra i risultati che sono stati e sono in ritardo di fornitura, ci sono troppe autonomie regionali nella decisione di chi vaccinare, perché in questo momento storico in cui il virus corre, gli ospedali si riempiono e i vaccini sono pochi, la preferenza bisognava darle, bisogna darla a chi rischia di più, e chi rischia di più, come ci dicono anche i dati sulla mortalità durante più di un anno di pandemia, sono i soggetti fragili, in particolare quelli che hanno più di 80 anni, quindi bisogna accelerare il più possibile con questa categoria, se vogliamo progressivamente cominciare a ridurre l'impatto della malattia nel nostro Paese.